Buongiorno a tutti, qui siamo a Chialamberto, qui di Val Grande, Schrift Showvia Leitner C77 del 1976. Fu anche ricostruita nel 99 a causa di un alluvione che la spazzovia, alla stazione qui a Valle del 94, e ad oggi è abbandonata, con i traini moltissimi senza piattello, a Monz c'è la tenditrice, qui invece la stazione motrice, e qui la linea tra i suoi porti a Valle del 95. La stazione è terminata, e poi abbiamo lì, adesso non si vede, perché vediamo il ruoto, c'è la puleggia che permette la stazione di sculpilino, ed è bello ripido. Lungo, 448 metri. Adesso filmiamo anche all'altro lato, almeno viene bene. Il rulliero è tutto originale. Lungo, 548 metri. Il rulliero è tutto originale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui c'è la linea che passa dal bosco e laggiù c'è la stazione di arrivo di questa bellissima sciovia. Qui siamo all'arrivo della sciovia C77 di Chialamberto, Leitner del 1978 mi pare. Questa è la tenditrice, puleggia, ski lift a tracciato curvilineo, infatti là c'è la puleggia che permette appunto il tracciato curvilineo, sostegno ad arco esattamente come quelli sui lift di Balme che è dismesso. E niente, alla prossima. Questo è l'alto sostegno della linea di ritorno, senza appunto non ha tracciato curvilineo da questo lato e qua è tutta la linea con anche il portale di avanzazione ad archi binati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.